Il blockhouse che non c'è, i 6.100 metri di una di quelle che dovranno essere le tappe decisive del giro, tolti, eliminati dall'organizzazione della corsa 15 giorni fa. Siamo a quota 1.600 metri, siamo a 800 metri dopo il traguardo della tappa di oggi e alle mie spalle ci sono l'attacco dei 6 km finali del blockhouse, 8% di pendenza media, 7,9% di pendenza media con punte del 9. Poteva essere un tratto veramente decisivo, poteva essere un tratto che cambiava la fisionomia della corsa perché si sale in quota, si sale a 2.100 metri e questo tratto è veramente duro. Questo tratto è stato eliminato per motivi di neve e di logistica, qui attualmente non c'è traccia di neve né qui né in cima, come si può vedere anche dal basso, i problemi forse erano di tipo logistico, però forse poteva bastare tenere qualche tappa qui in basso e far salire soltanto i corridori e le ammiraglie, per fare veramente una tappa straordinaria. La tappa di oggi in qualche modo è monca, manca la cima, manca la parte più interessante, speriamo che comunque la corsa sia dura, sia bella e permetta comunque di fare selezione e di stimolare chi guarda e chi corre.